E continuiamo ancora oggi, stimolati dalle riflessioni di Dio Barsotti, sulla capacità di lasciarci stupire dall'ordinario della vita, di saper cogliere nel nostro tran tran quotidiano, nel nostro stress quotidiano diremmo oggi, nel nostro correre da una parte all'altra in una vita che forse sta diventando sempre più disumana e meno umana, dicevo, in tutto questo dobbiamo saper cogliere la bellezza della presenza di Dio. Ieri abbiamo detto che basta il fuoco, il giorno, il mare, la montagna, un bambino, un anziano a farci pensare che in tutto io posso incontrare la bellezza di Dio. Tutto ciò che Dio ha creato. Perché la bellezza da chi viene? Da Dio. La bellezza non è qualcosa del mondo. La bellezza è qualcosa che è nell'uomo e che è venuta nell'uomo. Perché Dio ci ha fatti belli. Che non è la bellezza delle palestre o la bellezza dei prodotti che ci rendono più belli. No, è la bellezza del cuore, è la bellezza dell'amore, è la bellezza di un cuore che sa amare, è la bellezza di un Dio che sa donare, è la bellezza di un Dio che ci ha creati, è la bellezza di un Dio che sa ricrearci, perdonandoci sempre. E allora questa presenza di Dio in tutto ciò che è vita, che è creatura, che è mondo, ci mette continuamente in comunione con Lui. E lasciate che anche oggi io vi legga una piccola riflessione, piccola frase di Divo Barsotti preso dal testo Verso la visione. Attraverso tutte le cose, la mia comunione è con Dio che attraverso tutte le cose si rivela e si comunica a me. Non dobbiamo lasciarci prendere dalla fretta, dobbiamo saper gustare le cose. Rimandiamo sempre al minuto che sopravviene all'incontro. Hai da andare a fare la comunione, cioè dobbiamo andare a messa, questo ci sta dicendo Divo Barsotti. Bene, intanto guarda il cielo, com'è bello. E' già questa una comunione con Dio. Hai da andare a fare scuola, devi prendere il treno, devi fare il biglietto. Fermate un istante a guardare com'è bello il mare. Vedete come lo stupore è possibile che venga innescato dalla bellezza delle piccole cose. Perché noi, è vero iniziare da me, molte volte vogliamo evadere per trovare la bellezza. Molte volte vogliamo andare o fare chissà quali viaggi per poterci lasciare intenerire dalla bellezza, per esempio, della natura. Eppure abbiamo la bellezza nelle nostre cose quotidiane. Se io faccio, per esempio, un'opera buona e quella persona la vedo sorridere, altro che stupore, altro che presenza di Dio, più presenza di Dio di quella, dove la trovi? Ed ecco che anche quel sorriso, quella carezza o quelle lacrime mi aiutano a trovare la presenza di Dio, mi aiutano a scoprire la bellezza e la bellezza mi sa stupire. Perché solo lo stupore conosce, solo lo stupore mi fa vedere, mi fa apprezzare, mi fa toccare il cuore dalla bellezza, solo chi si stupisce è capace di lasciarsi incontrare da Dio. Io vi aspetto domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Ciao a tutti!